Salve. Salve. Sì, tutto bene, grazie a lei. Grazie, a vederci. Questa non saluta neanche, ma le prime luci del giorno. Ove il cielo si sposa con la terra. Ove le nuvole si confondono con le stelle che stanno scomparendo al di là del cosmo per dare spazio alla luce della nostra stella madre che si accinge a sorgere. Stella madre. Stella madre. Io uscirò anche questa sera. Io stasera non so se esco. Ah, è per ricordarmi di essere giovane. Ah beh, quello sì, dai. Questo qui è il posto dove siamo venuti a girare il video. Cioè in realtà non è questo il posto dove siamo venuti a girare il video, bensì questo è il nostro punto di appoggio per arrivare al posto dove gireremo il video. Fate un saluto. C'è bisogno di un saluto. Voi il dietro? Eccolo lì. Lui è Vittorio, il nostro protagonista. Lui è? Chi è lui? Chi è? Chi è? Lui chi è? Non si sa bene. Ecco qua, la committiva. Vedete qua c'è addirittura il ponte naturale. Naturelle. Naturelle. Ci serve l'aiuto di tutti voi per girare questo video perché le energie cominciano già a mancare. Quindi le braccia al cielo e conferiate a noi tutta la vostra energia. Sì, aspera gentilità ma è il primo flash mob. Voi dietro siete ancora vivi? Luca comincia a cedere. Insomma come cazzo lo fai volare un drone senza le batterie? Voi direte potete soffiare molto forte però insomma non è così che funziona la vita. Si soffia sui droni. Eccoci arrivati alla prima location per il video. Rifugio Pian dalle Bosse. Tutto un po' in ritardo come sempre anche se la sveglia era alle 5. Abbiamo dormito tutti non più di 4 ore quindi sarà dura salire sopra il monte. C'è l'obiettivo sporco eh? Quello sporcaccione di prezzi. Cosa ci ha fatto su questo obiettivo? E mentre noi facciamo la festa? Loro fanno un lavoro. per il lavoro, una vita all'uomo. Cosa non è così? 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 Ehi, come va? Ciao, 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 un tesoro, ciao, c'è Monte Carmo, esatto, è una montagna subito ridosso del mare, questo qui era gratis e il prossimo lo pagate, mi chiesto Panaz Salame Free ragazzi, Salame Free Panaz è una mela da un grammo e mezzo, no, 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 stiamo girando la scena finale dove sale il drone per aria, quindi adesso ci stiamo nascondendo